Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di mele e yogurt. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, zucchero, uova, olio di semi di girasole, yogurt alla vaniglia, mele tagliate a cubetti e riorate con succo di limone, mele tagliate a fette e riorate con succo di limone, scorza di limone, cannella, lievito per dolci vanigliato, sale e zucchero di canna. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la cannella e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4 senza misurino. azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio aggiungere prima l'olio e poi lo yogurt. aggiungere la farina l'amido il sale ed il lievito ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4 aggiungere le mele tagliate a cubetti ed azionare il bimbi per 30 secondi anti-orario velocità 2 trasferire il composto in una tortiera da 24 cm ben imburrata mettere sopra le mele tagliate a fette spolverizzare la superficie con lo zucchero di canna cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa fare sempre la prova a stecchino la torta di mele è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire torta di mele yogurt grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti